In seconda parte della nostra rubrica Dillo a Schittulli, siamo qui con l'attuale Presidente della provincia di Bari e futuro candidato, non si sa ancora candidato alla guida di cosa, però lo scopriremo magari durante questa puntata, anche se molti rumors parla di una sua candidatura, o almeno non candidatura, però molti la vedrebbero bene, o alla guida della regione Puglia, o alla guida della città metropolitana, come vede questa ipotesi? Io ho detto che mi onora che si possa pensare a me come candidato di Bari, di sindaco di Bari, o della città metropolitana, o della regione, ma sono progetti di cui non sono innamorato, quindi per il momento continuo a fare il mio lavoro, poi sono i cittadini a giudicarmi. Al di là delle candidature future, che sono ancora tutta una pagina da scrivere, però mi sembra che lei un punto fermo lo abbia fissato, cioè il fatto che continuerà a stare con il centrodestra, così come è stato fino a questo momento. Su questa domanda però la interrompo e vi risponderà tra pochissimo dopo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Senta, volevo avvisare al professor Schittoli che la riunione è finita alle 3 dell'ex CCR, la Fiora di Levante, queste cose sono da mandare in televisione, se lei le vedeva, le doveva mandare in televisione, così vediamo con che persone ci abbiamo dopo 18 anni in mobilità. La ringrazio, professor, buonasera. Grazie, grazie per il suo intervento. Non ho ben capito la natura dell'intervento, comunque c'è stata una riunione questa mattina in Fiera del Levante per l'ex CCR, è un'avvertenza che non si è ancora conclusa. E quindi non credo che sia una telefonata entusiastica, evidentemente la regione avrà ancora una volta preso tempo, è probabile, mi auguro di no, mi auguro che abbiano dato delle risposte concrete, mi auguro che abbiano detto a questi lavoratori che nelle maglie del bilancio per quanto ristretto possa essere entro la fine dell'anno se li si potrà assumere e dislocare nelle varie strutture sanitarie assistenti nell'ambito di Bari e della provincia di Bari, visto che siamo carenti di personale, visto che abbiamo bisogno di personale amministrativo, non tanto, quanto parasanitario, sanitario, abbiamo bisogno anche di chi pulisca i corridoi, pulisca le stanze. Quindi io mi auguro che ci siano state delle risposte, degli impegni presi e assunti. Temo che questo non ci sia stato, che si sia perso del tempo, che abbiano preso tempo in attesa delle elezioni. E poi dopo le elezioni si pensa. Se ne immaginate, ma guardate, pensate un po', c'è un ospedale, l'ospedale della Mugia, tra Gravini e Altamura, che è la cui prima pietra fu messa il secolo scorso, nel 1999. Sapete quando si inaugura? Prima delle elezioni, a marzo del 2013. Ma stiamo scherzando. Ma non va più questo, questo sistema, deve cambiare. Ecco perché bisogna cambiare da ora. Almeno in qualche modo nobilitiamo le elezioni, che sono state sempre un'accelerata su progetti. Ma senza neppure una progettualità di quello che deve fare l'ospedale della Mugia, che è stretto tra l'ospedale di Matera, che è un grande ospedale, che sta a 7 km, 10 km dall'ospedale della Mugia, e l'ospedale di Acquaviva, oltre che Bari. 085-019998 per intervenire in diretta. Volevo dire che rispetto all'avvertenza degli ex CCR, noi l'abbiamo data anche nel telegiornale, ma come confermava anche il cittadino che ci ha chiamato, in effetti la riunione è finita adesso, quindi abbiamo dato soltanto una versione parziale dell'andamento della riunione, che era ancora in corso, poi ovviamente vi daremo altri dettagli nei prossimi appuntamenti con l'informazione, però in effetti dalla telefonata del telespettatore ci sembrava che fosse poco incoraggiante, insomma poco confortante la telefonata, quindi presumo che probabilmente appunto non avranno deciso niente di definitivo. Come la questione dell'ILVA di Taranto, ma perché scopriamo ora che Taranto è una zona inquinata, che a Tamburi i bambini si ammalano di malattie respiratorie, lo scopriamo ora. E perché volevano fare questa regione, volevano fare l'ospedale oncologico a Taranto, 140 mila abitanti, l'ospedale oncologico in San Raffaele, stanziando 120, non so quanti, milioni di euro, perché per prevenire il cancro? O perché lì c'è già il cancro? E si scopre ora? Andiamo avanti, le avevo posto una domanda, lei ieri ha ribadito che continuerà a lavorare e a stare dalla parte del centro-destra, significa che non saranno previsti i cambi di casacca almeno per il momento? No, io casacca non è cambio, rispetto a chi è che ha avuto fiducia in me e chi mi ha chiamato a questo impegno civico, e quindi la mia gratitudine, ma non credo che sia il tempo degli schieramenti, io credo che bisogna abbattere ogni schieramento, qua dobbiamo rimboccarci tutte le maniche, da destra a sinistra, cioè io vorrei tanto, sogno, un tavolo circolare intorno al quale si siedono tutti, si siedono tutti per far riprendere il paese. Quando ho fatto l'esempio del dopoguerra, e ho detto guardate che nel dopoguerra la situazione era davvero pesantemente divisa tra il mondo comunista e il mondo liberale degli Stati Uniti d'America. C'erano uomini ideologicamente contrapposti, da un lato in Parlamento si edeva Togliatti, Palminio Togliatti, dall'altro si edeva Alcide De Gaspe, ma questi si sono seduti intorno allo stesso tavolo, hanno fatto la Costituzione, hanno cominciato a ricostruire il nostro paese, ma è possibile che noi non dobbiamo fare la stessa cosa, indipendentemente dallo schieramento, centro-destra, centro-sinistra, non ha più motivo a destra, qua siamo tutti uguali. Certo, indubbiamente sì. 085-019998 per intervenire in diretta, le chiedo però anche, riprendendo il titolo degli Stati Generali di ieri, il cambiamento è ora, diciamo una strada, lei ha indicato una strada per uscire immediatamente dalla crisi e dal degrado, però possono rischiare di apparire parole vuote di significato, nel senso che sembra poi diventare soltanto un esercizio di demagogia, però in fondo è difficile poter davvero determinare un cambiamento strutturale per poi poter uscire dalla crisi. Insomma, che cosa c'è dietro? Ma no, noi dobbiamo detassare i cittadini perché c'è una tassazione talmente esasperata non più sopportabile. Allora io ho dato, mi sono permesso di indicare alcune soluzioni. La prima, la vendita degli immobili dello Stato. Lo Stato è proprietario di caserme, è proprietario di palazzi, è proprietario di suoli, beh questi li deve mettere in vendita e di là si devono attingere fondi per risanare il debito pubblico che è di 2 mila miliardi di euro e ogni giorno aumenta di 250 milioni di euro al giorno per gli interessi. Il secondo punto è di mettere un fermo alle nostre missioni all'estero, perché ogni anno la missione all'estero comporta un esborso da parte del Paese, dell'Italia, e quindi dei cittadini, di diversi milioni di euro. Allora noi dobbiamo fermare per tre anni, per quattro anni, per cinque anni, non più missioni, cosiddette missioni di pace, dove muoiono i nostri ragazzi. Il terzo, noi siamo un Paese baciato dal Signore, perché abbiamo la fortuna di avere un Paese climaticamente attrattivo. Abbiamo una situazione meteorologica invidiabile, abbiamo un paesaggio incantevole, abbiamo 7458 chilometri di costa, che se io dessi in concessione questi 7458 chilometri di costa a delle società, perché mi possono realizzare, secondo i criteri che io, Stato, vado a delineare, mi devono realizzare una sorta di 7458 chilometri di movida, dove devono assumere i ragazzi e dove deve essere destagionalizzata l'attività. Perché? Perché vengono dalla Russia, vengono dalla Norvegia, ma se io offro questi servizi, queste opportunità, viva Dio, io creo lavoro. Poi noi dobbiamo cercare anche di tagliare i grandi emolumenti, non soltanto quelli dei manager, ma chi deve dare l'esempio e chi legifera. Io, Parlamento, legifero e devo dare l'esempio. Non posso dire tasso, tolgo la pensione a caio, diminuisco quello. Io per primo do l'esempio, devo dare l'esempio. Io, parlamentare, io, consigliere regionale, perché legifero, devo dare l'esempio. E l'esempio lo sai come si dà? Dicendo, siccome qua tutti quanti fanno la gara, chi deve andare in Parlamento? Perché? Perché? Allora, io devo sapere che se vado in Parlamento, quando percepisco di stipendio 5.000 euro al mese, e devo prendere 5.000 euro al mese, lasciando lo stipendio ovviamente, mettendomi in aspettativa, e devo percepire 5.000 euro al mese facendo il parlamentare. E non devo avere nessun altro benefit, niente. Non devo avere cassi integrati, non devo avere dopo la pensione, il vitalizio, la buon'uscita, niente ritorno, ho accumulato quegli anni di anzianità che si ripercuotono sulla attività lavorativa, non devo avere nessun benefit, vado a Roma, è giusto che io vada con l'aereo, ci mancherebbe altro, ma l'aereo lo fa direttamente il Parlamento. Quando viene lei in Parlamento, onorevole Bucci, viene il lunedì e va via il martedì, e io le faccio i biglietti il lunedì e viene il martedì. Facciamo un pullman Gran Turismo, ma credo che questo farebbe abbattere altrimenti. A dormire, io Parlamento mi convenziono con determinati hotel, hotel ovviamente dignitosi, quindi basta un 4 stelle, e ti do io la stanza. Per quanto riguarda gli alimenti, i lavoratori che cos'hanno? Hanno il ticket, hanno il pezzettino di carta col quale vanno a mangiare nelle trattorie, ammettendo che si vada a mangiare nelle trattorie, beh io Parlamento, i buoni pasto, quanti giorni stai? Tre giorni? Questi sono i tre buoni pasto per te, convenzionati con ristoranti di un certo livello, certamente dignitosi, non certamente quelli di lusso. Abbatteremo notevolmente il numero degli aspiranti della politica, prendiamo una telefonata, pronto?